Ben trovati a tutti gli iscritti di Merletto MNDEF, il canale YouTube che si occupa degli articoli, delle pubblicazioni e delle iniziative che MNDEF Merletto prende nel campo del Merletto a Fuselli. Oggi abbiamo la gioia di condividere con voi un'intervista fatta purtroppo a distanza a causa del Covid alla signora Maria Bissacco. Maria è una personalità di notevole calibro e di importanza nel Merletto a Fuselli italiano. Personalmente ho avuto la gioia di conoscerla e di confrontarmi con lei nel 2012 a Baltopina. Avevo già visto alcune cose realizzate da Maria, conoscevo già di nome e di fama Maria Bissacco, ma non avevo ancora avuto la fortuna di conoscerla personalmente. Nel 2012, proprio a Baltopina, quando anche MNDEF Merletto aveva il suo stand, ebbi la fortuna di conoscerla e trovai in lei la conferma di tutto quello che mi ero costruita nella testa. Trovai in Maria una persona curiosa, un'artista vera, innovativa, però anche ancorata alle tradizioni, rispettosa delle tradizioni, forte di una cultura che si era fatta nel tempo. L'intervista, come vi dicevo, è fatta a distanza. Io farò le domande e Maria, dalla sua postazione, risponderà alle mie domande. Quindi sono qui a iniziare con la prima domanda che faccio a Maria e le chiedo. Quando hai avuto l'approccio al merletto, chi è Maria Bissacco? Come ti sei avvicinata al merletto a Fuselli? Ringrazio te, Maria Elena, e quanti sono in ascolto. Parlare di se stessi è estremamente difficile e può sembrare presuntuoso, perciò sinteticamente vi dirò che la mia vita si è svolta tra stoffe e fili. E solo nel 1996 a 54 anni, chiusa la sartoria, mi iscrissi per diletto alla allora Scuola Merletti Gorizia e mi ripi ormai a 60 anni. L'inizio non fu facile, non era solo diletto come immaginavo e molte volte ho dovuto disfare e rifare. Nessun voto veniva regalato, neanche a me, che credo fossi l'allieva più vecchia. Perciò decisi di studiare seriamente. Imparai il disegno, il merletto classico, solo il classico, perché il corso di sperimentazione artistica venne istituito molto più tardi. Il disegno e un po' di storia dell'arte, ottime basi, anche se poi ho lavorato a modo mio. Come vi dicevo nella premessa, Maria è una persona molto curiosa e ha la fortuna di avere un marito altrettanto curioso e li lega, oltre alle altre innumerevoli cose che possono legare una coppia, anche la loro passione per il viaggio. Allora mi chiedo, Maria, hai viaggiato mai con l'interesse del merletto e questo viaggiare ti ha portato a conoscere o a incontrare persone che magari ti hanno aiutato a conoscere meglio il merletto fuori dall'ambito locale nel quale ti è rimossa fino ai primi momenti? Ancora prima di diplomarmi iniziai a vaggiare per merletto in Europa e fui fortunata nell'essere accompagnata da un'amica, Kvetoslava Simkova, che oltre a farci la cicerone era la nostra interprete. Non ho mai considerato il viaggio come un allegro spostamento, ma un modo emozionante per conoscere. Iniziamo con la Repubblica Ceca, poi la Slovacchia, l'Ungheria e poi in altre parti d'Europa, dove girai come il più umile degli allievi e senza la presunzione di sapere, senza credere che il mio merletto fosse il migliore. Ma stupita nel trovarmi di fronte a merletti molto diversi da quelli che io ero abituata a vedere e a fare. E forse anche perché il merletto classico lo feci solo come programma scolastico, capii che vi erano altre possibilità più contemporanei per il merletto Fuselli. Vidi allora soggetti figurativi, decori geometrici e con un concetto nuovo di pieno e vuoto e una perfezione nel tratto che non lasciava dubbi sulla capacità, forse retaggio del passato, dei disegnatori che assieme all'uso spavaldo, inusuale per me, dei fili più diversi e variopinti, generava un'opera di una sorprendente attualità e se ora può sembrare una banalità visto l'uso della rete e delle moderne tecnologie, venticinque anni fa non lo era affatto. Adesso chiedo a Maria, in questo tuo viaggiare, in questo tuo vedere questi merletti diversi e queste cose nuove che ci hai descritto, hai mai frequentato un corso in loco, cioè per avvicinarti al merletto che incontravi grazie ai tuoi viaggi? Frequentai un unico corso a Vanberg, in Repubblica Ceca, con Jana Stevkova, persona di rara modestia e capacità, che non lesinava consigli, ma imparai anche dal non detto, osservando ad esempio come vongevano il filo, come puntavano gli spilli, come disegnavano. In quegli anni strinsi amicizia con molti artisti stranieri, amicizia che dura fortunatamente tutt'ora. Adesso una domanda più intrigante, ma è una cosa che mi tengo particolarmente. Vorrei sapere da Maria quale è la sua considerazione di arte. Spesso il merletto a fuselli viene associato ad una forma artistica. Maria, cosa pensi della parola proprio arte? Detto molto semplicemente, penso che il rapporto tra l'uomo e l'arte è valido se l'identità propria, unita alla sua cultura, dell'uomo, lo porta a creare in quel caso, in questo caso, merletti, diversi da altri, perché io credo che l'intreccio dei fili può essere anche espressione dell'anima. Sono tutti opere d'arte? Chissà. Penso che l'artista debba avere idee uniche, capaci di costruire criticamente un qualcosa di nuovo, in grado di suscitare, se non proprio, emozioni, almeno meraviglia. Certamente, questo è un mio modo personale di intendere una qualunque creazione in tutti i campi dell'arte. Adesso, invece, andiamo su una domanda più tecnica. Io sono, come sapete bene, una disegnatrice di merletto e insegno a realizzare i merletti sui miei disegni. E chiedo a Maria, secondo te, qual è il miglior approccio al merletto? Cosa pensi proprio del disegno, della possibilità o meno di frequentare dei corsi di merletto? Ci tengo molto a questa cosa da parte tua. Sono stata un'allieva discola, più eclettica che perfetta, però sono certa di una cosa, che è necessario conoscere bene il merletto classico, per poi, se si desidera, far voglia in pindarici e che un buon disegno sia fondamentale per una buona riuscita di un merletto. D'altronde, siamo nel 2022 e, a mio modo di vedere, il merletto dovrebbe essere studiato come materia scolastica. In fondo è parte della storia dell'uomo. La socializzazione, la possibilità di uno studio collettivo, lo scambio di idee, la guida accorta di un docente provvede a far emergere da ogni allievo la sua personalità e il concetto del bello. Ricordiamo che ogni uomo è unico su questa terra. Infine, ci congediamo dalla signora Maria Bissacco con un'ultima domanda a cui tengo molto. Il futuro del merletto, cosa vedi in questo momento di cambio generazionale, di cambio di abitudine, dell'ingresso del web, di internet, dell'informatica, del digitale, della tecnologia nel mondo di tutti i giorni? E' come vedi il merletto nel futuro? Pensando al futuro del merletto non ho idee chiare, in quanto la moderna tecnologia ci propone rapidamente tutto e a portata di mouse. Da quanto vedo in questo periodo in rete, mi sembra che abbiano molto seguito i merletti tipo torsion, rettini vari, la maggior parte creati a computer. Certamente il poter visionare video, acquistare libri, seguire corsi online è senz'altro un'ottima cosa ad un verso. Dall'altro tutto sembra facile, veloce, assettico, i laici immeritati creano illusioni e un giudizio negativo non è assolutamente accettato. Abituati al silenzio compiacente del computer, il rifiuto di una critica costruttiva può trascinare in un piattimento culturale. Questo modo di apprendere così allegro, rapido, ma carente del fattore umano, finirà forse per togliere il piacere della meraviglia. un grazie di cuore alla signora Missacco che ci ha concesso questa breve ma ricca ed intensa intervista. Ci auguriamo di poterla rincontrare e di poter approfondire con lei altri innumerevoli argomenti di cui sicuramente la signora Missacco è a conoscenza. Ci congediamo da questa intervista con una serie di immagini che abbiamo legati ai nostri fortunatissimi incontri augurandoci che presto possiamo di nuovo abbracciarci e di nuovo incontrarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.